Buonasera a tutti. Siamo alla seconda sera della nostra novena di Natale, seconda perché ieri sera ci siamo interrotti per ascoltare l'Arcivescovo nella celebrazione penitenziale. Iniziamo, come ci ha insegnato anche in queste sere il nostro Arcivescovo nei suoi tre minuti di preghiera, raccogliendoci nel silenzio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Seconda sera. Fare la novena è un po' come fare un viaggio verso Betlemme, accompagnato, accompagnati da tanti personaggi che si avviano alla capanna di Betlemme. Alcuni sono i personaggi che ritroviamo nel presepio, altri sono personaggi che non troviamo nel presepio, ma che troviamo nei racconti dei Vangeli. Ecco, il personaggio su cui vogliamo fermare l'attenzione questa sera è Santa Elisabetta. Di lei si parla nel Vangelo, di lei si parla dal momento in cui Maria va a visitarla. Elisabetta è la cugina di Maria. Elisabetta è la mamma di Giovanni Battista, l'ultimo dei grandi profeti. E allora questa sera, in un certo senso, entriamo insieme con Maria, che ha in grembo il Signore Gesù, entriamo con la Vergine Maria nella casa di Elisabetta. Per poi chiedere a lei come possiamo accogliere il Signore Gesù che viene a visitarci anche nella nostra casa. Ascoltiamo un brano di Vangelo che ci parla di Elisabetta. Dal Vangelo di Luca In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce Benedetta tu, fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Parola di Dio. Vendiamo, grazie a Dio. Quel brano che abbiamo ascoltato, Elisabetta riceve la visita di Maria e insieme con Maria riceve anche la visita di Gesù, quel bimbo che Maria porta nel suo grembo. Ecco, stasera ci facciamo una domanda. Anzi, la facciamo ad Elisabetta. Elisabetta, come possiamo imparare a ricevere il dono che è Gesù nel prossimo Natale? Elisabetta penso che ci risponda in questi modi. La prima cosa che ci insegna per ricevere il dono che è Gesù, la prima cosa che ci insegna è la meraviglia, è lo stupore. Perché il dono di Gesù è un dono sempre nuovo, è un dono che continuamente si rinnova. Forse noi ci siamo abituati al Natale, a ricevere questo dono che è il Signore Gesù. Forse ci siamo anche abituati a ricevere Gesù negli altri momenti in cui viene a noi, per esempio nella Messa Dominicale. Invece ogni volta che il Signore viene a noi, noi dovremmo metterci nell'atteggiamento dello stupore, della riconoscenza, della meraviglia. Dobbiamo avere il cuore dei bambini, capaci di stupirsi sempre di fronte ai doni che ricevono. Poi credo che Elisabetta ci insegni anche un altro atteggiamento per ricevere il dono. Il dono di Gesù è un dono vivo, è il dono di un'amicizia. Ed Elisabetta ci insegna a coltivare questa amicizia. Pensate, si dice nel brano che abbiamo ascoltato che Maria si fermò da lei tre mesi. Che cosa avranno fatto Maria ed Elisabetta in questi tre mesi? Certamente si sono parlate, si sono confrontate, si sono scambiate le confidenze, si sono soprattutto aiutate reciprocamente. Accogliere il dono che è il Signore Gesù vuol dire stabilire con Lui un dialogo, il dialogo della preghiera. Accogliere il dono vuol dire imparare da Gesù a metterci a servizio degli altri, proprio come hanno fatto Elisabetta e Maria nel loro servizio reciproco. E poi ancora, si dice che quando Elisabetta ha ricevuto la visita di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Ecco, ricevere il dono ci deve riempire di grande gioia. Non la gioia che passa in un momento, ma la gioia di sapere che Dio è con noi e che ci accompagna ogni giorno della nostra vita. Il Natale sarà vero se nei giorni seguenti al Natale noi custodiremo la gioia dell'incontro con il Signore Gesù. E poi ancora, Elisabetta accogliendo il dono della visita di Gesù, si è riconosciuta essa stessa, madre di Giovanni Battista. Ecco, ricevere il dono di Gesù vuol dire imparare a nostra volta a generare vita nuova, a generare una vita buona per ogni persona che incontriamo. Dobbiamo diventare capaci di generare vita nuova e vita buona intorno a noi. Elisabetta, che cosa allora ci insegni? Ci insegni lo stupore e la miraviglia dei bambini. Ci insegni la fedeltà nel dialogo, che è delle persone grandi, delle persone mature. Ci insegni la bellezza e la gioia dello stare con il Signore Gesù. Ci insegni a diventare a nostra volta capaci di generare vita nuova. Grazie, Elisabetta, per questi tuoi insegnamenti. La tua gioia e la gioia di Maria poi si sono espresse nella preghiera. E anche noi questa sera, come la prima sera, come nelle prossime sere, come vi abbiamo invitato a fare durante il tempo dell'Avvento, vogliamo concludere questo momento con la preghiera. La preghiera dell'Angelus. La preghiera di chi è visitato dall'Angelo del Signore, riceve una parola, che è una parola di vita. Preghiamo insieme. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed è la concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi picatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ecco, sono la serva del Signore. Avvenga in me secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi picatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi picatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre. Tu che all'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amo. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti i nostri defunti l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E affidiamo questa notte anche all'Angelo Custode. Angelo di Dio, che segno custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ci benedica Dio un potente Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Buonanotte a tutti.